Ciao a tutti, sono Annel, benvenuti a mio, un uovissimo piccio, come vi ho detto per tanti giorni, non sono restato a voi, e qua Sarino ho fatto tutto, di giallo, fate vedere le novità, forse è un uovissimo, non so perché, ma è giusto, sono un uovissimo, e faccio fare un po' il giro della mia casa. E guardate la mia casa, allora, un sacco di blocchi nuovissimi, super nuovi, a parte una volta, ma ho compinto qualcosa, vai, 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 perché, Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Stai incominciando ad essere l'oro, ve lo dico stai incominciando ad essere l'oro, perché c'è un cavallo prima non era zuccherato, tutto rosa, le pupille, le tantissime parti rosacchiare. Qua sta succedendo qualcosa che io non so, capo, per cosa. Scusate, ma cosa devo dire? Io ho avuto un sentato, ho visto delle scritte che io mi avevo scritto, perché il mio cane non può vivere nemmeno gli animali, come ora e prima e dopo, e dopo la mamma. Ma chi ha fermato così le luci? Ma non blocca questo, non blocca questo. Va bene. Bene, vi faccio vedere i miei piccolini gattucci. Dove sono? A parte dove sono, saranno dentro. Uno non ci sono mai. Come si entra? A parte a semmo. Da quando c'era sto qua? C'è qualcosa ragazzi, ve lo dico. C'è qualcosa che non va, perché succede delle cose assurde. E non c'è cosa sia il mio papagatio. Perché c'era quel diritto assurdo e brutto. C'è, mi fa un po' spaventare la questione che oggi stavo facendo. Sta facendo spaventare tantissimo. Spada dorata. Spada dorata. Io non ce la faccio più, ragazza. Doviamo mai farlo. Doviamo sconfiggere tutti questi mostri. E non voglio fare questa questione. Questi zumbacci. C'è, ci prendiamo una spada. Non è arrivato qualcosa che non ci fa male. Prendiamo subito lo scudo. Non posso togliere. Non posso togliere. Maledetti cosetti. Maledetti. No, perché non c'è. Diventa più. Più buio e più mi fa paura. Vabbè. Spada dorata. All'inizio, sì. Va. Skelettro. 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 Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è. Anche, sto questo. C'è la risia perché non sono mai rubi, eh. C'era la mia cassina. Poi c'è il gaberinto. l'ho scritto io. C'è voluto un bel paio. Cosa facciamo io? Cosa facciamo io? Cioè, mi sto prendendo un infarto. non c'è niente, beh, non è che ha scritto un cavallo. Non sarà mai che avrà scritto un cavallo, ma... mi sa che avrà scritto un cavallo. Mi sa che avrà scritto un cavallo. Non c'è niente. Ma queste prima non c'erano. Non c'erano. Non c'erano prima. ma... è nemmeno questo, ma... è la zona di api. Oh, spiegato l'etto. E' una delciano. Mh. Mi faccio... Ma queste sono dei vasi. Che è? Non convince. Un sassicciato non lo so, ma... Do un'occhiatina, se qualcuno ha scritto chi c'è, ha un corso, un altro, no, niente, 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 hanno scritto, le mie positori di armi. Oddio mio, e vai. E vai, c'è uno scanner, benvenuti alla casa dei maiali, questa è la casa dei maiali, adesso ci devi venire, sennò la casa dei maiali viene distrutta, li fanno, anche se dentro non c'è nessun maiale, anche se dentro non c'è nessun maiale. Adesso ho il legnocio, vedete gli scanner viola. Ok. ... ... ... ... ... ... ... un po' di più mamma mia sto cercando a girare ho una mela duro, mi piace la duro, le rappe, buonissime le rappe ho perso il mio oscuro mamma mia mamma mia ma io sembro che mangio a bocca aperta e ci sono due asini che mangiano mentre io mangio due asini che io mastico a bocca aperta con due asini le masticano anche loro ascoltate quella è la fine del silinghio ecco c'era la mia indorcista non era la sopravvara miniera dove la devo mettere? la metto in un posto nascostissimo dove nessuno la può vedere dietro agli scanner voi non la prendete mai ora sto scherzando la metto dietro ai scanner bene 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 Grazie.